Terribile schianto mortale in via Delfante a Palermo dove una ragazza di 18 anni, Carlotta Rosano, è deceduta dopo l'incidente. È avvenuto questa mattina intorno alle 7.30. La giovane si trovava a bordo di una Fiat 600 insieme a due amiche. E un giovane, per cause ancora da accertare, l'automobilista, sembra un'amica, avrebbe perso il controllo del mezzo, sbattendo violentissimamente contro un muro. Dopo l'impatto, l'auto si è accartocciata in un groviglio di lamieri. I vigili del fuoco hanno aiutato i quattro feriti per poi portarli in ospedale. La più grave, Carlotta, è stata portata nel vicino pronto soccorso di Villa Sofia dove, purtroppo, è deceduta per via delle gravi ferite. Riportate, gli altri giovani non sarebbero invece in pericolo di vita. Riportate, gli altri giovani non sarebbero invece in pericolo di vita.